Proprio qui, in questa valle, si narra di un popolo indomito. La leggenda racconta che cavalcassero puro sangue argentati, il cui manto scintillava la luce del sole. Un popolo capace di raggiungere anche le vette più impervie, proprio perché incapace di sentire la fatica durante qualsiasi salita. Un popolo che ancora oggi non ha smesso di esplorare il mondo. Ancora più off-road, ancora più potente. Nuova Mini Countryman, tua da 24.950 euro. Proprio qui, in questa valle, si narra di un popolo indomito, arrivato qui da molto lontano. Un popolo che sapeva aprirsi barchi ovunque, che trasportava forzieri con grandi tesori e celebrava ogni vittoria con pranzi lucugliani. Un popolo di cui ancora oggi ci giungono reperti da ogni dove. Ancora più off-road, ancora più spaziosa. Nuova Mini Countryman, tua da 24.950 euro. Proprio qui, in questa valle, si narra di un popolo indomito di conquistatori ed esploratori. La leggenda racconta non avessero bisogno di torce per illuminare i loro villaggi, né di fuochi per riscaldarli. Un popolo sempre alla ricerca di nuovi mondi da scoprire e che ancora oggi non ha intenzione di fermarsi. Ancora più off-road, ancora più tecnologica. Nuova Mini Countryman, tua da 24.950 euro.